Carmignano di Brenta. Prima lo schianto tremendo contro un palo della luce, poi un'auto con a bordo due persone si è ribaltata finendo in un campo. L'incidente è avvenuto nelle campagne di Carmignano nella mattina di Santo Stefano. Tutte e due le persone che erano nell'auto sono rimaste ferite. Sul posto sono intervenuti i pompieri di Cittadella che hanno messo in sicurezza la vettura e il palo. Nel frattempo i due feriti sono riusciti ad uscire autonomamente dalla vettura e sono stati soccorsi e portati in ospedale dal 118.